Sono veramente curioso di vedere... ecco qua E il primo è già volato di sotto E il secondo pur Già si parte beh Vabbè che comunque ci hanno 30 minuti come limite di tempo Quindi è abbastanza tranquillo Secondo me Purtroppo qui è antipatico Perché ti devi mettere proprio qua sopra E saltati là correndo Perché se no non ci si arriva Nooo è volato malissimo Mi sembra che si è partito Alla grande Ecco È moreno alla prima Tranquillamente Nooo è gliel'ho gofata poverino C'è la brutta sensazione Che servirà più di un sacco a pelo A essere proprio sincero Più che altro c'è anche quel pezzo dove Puoi fare praticamente giro e giro tondo all'infinito Quindi non è spuntato che comunque qualcuno rimane lì a gira per buoni due minuti Ok Alex pure avanti Vediamo un po' Questo pezzo è abbastanza tranquillo L'importante è qua e non corre pescendo Perché se no vuole di sotto Nooo Attento Nooo Mamma mia per quanto Ecco Per l'appunto L'Anda va fatto piano piano Perché se c'hai un po' di rincorsa Col fatto che è proprio sotto Te ne voli Qua se c'era il bro Mamma mia Il bro in season 3 mi sembra O season 2 Al parkour 30 secondi Ha fatto tutto il parkour C'era veramente qualcosa d'assurdo C'è una gazzella praticamente Il buon Giammo è confuso Il Giammo sta pensando Ma dove caspita devo andare Vandaggio Ok Piano piano Per fortuna che almeno è giro Perché se no Poteva essere un po' di problema E ora in realtà Può andare pure qua davanti P'assurdo Cioè se si sa Rischia Ma c'è arrivato Perché in realtà questo Andava fatto al giro Tipo Però Ok C'era un senso Qua è veramente antipatico Perché rischi Ecco Per l'appunto Devo la da sotto Attenzione Ale No Eh mamma mia Te l'ho gufata alla grande Però caspita Come t'ho visto Ho detto attenzione Ale E volato da sotto C'è incredibile Devo stare zitto Povero Ale Le stecche è diventato Un deltaplano Secondo me E ora dove vai E infatti E infatti C'è la davanti Non si vede Perfortuna Raga Veramente Secondo me 10 minuti 10 minuti Però No forse Forse la barriera Del mondo No Poverino No vabbè Ancora Sua piattaforma Vai Ale Ecco Un'altra cosa importante Quando si fanno Questi eventi Così Meno roba C'è Nell'inventario Meglio è Perché riesci A saltare Più lontano Perché comunque Quando vado a provare Diciamo A fare i salti Eccetera Per il parkour Sono sempre Comunque Con 25-30% Dell'inventario No Quindi comunque Se lo fai Con l'inventario Vuoto Riesci sicura Ad arrivare Dall'altra parte Fatta apposta Già Mo sta litigando Con quel pezzo De roccia Veramente Un casino Sembra tipo Che stanno A fare i tuffi Ragazzi È assurdo La prossima volta Lo devo fare Tipo in mezzo All'oceano Con tutti gli squali Sotto Sapete quanto è risato Secondo me Diventa abbastanza divertente Allora Vediamo un po' Morino pure Abbastanza avanti Mamma mia Ha fatto un salto Da lì Ale non lo so Dove sta Cercando di andare In realtà Che poi In verità Da qui Eh ma lì Ma sa che Mori da caduta Vediamo questa Letica Con questo pezzo Do parkour Veramente Da un paio di minuti Maggiamo Ole Tanto non è un evento Che dici Chi arriva prima Chi arriva seconda Eccetera Cioè l'importante È completarlo In 30 minuti Che poi in realtà Come è fatto Si potrebbe anche ampliare E portarlo ancora Più in alto Col percorso E ora da qui in poi È tranquillo Cioè alla fine Sono 4 salti E forse solo Eh questo qui È un po' antipatico Però vedete Comunque è più in basso Quindi ci si dovrebbe arrivare Proprio Per un soffio Andare volato da sotto Oh mamma mia L'ho visto la ga Ok Mamma mia Stecca ha fatto un volo Che Era incredibile Tipo Ma che bello Prova stare Centavesso Del jam È tipo Olografico Ma è anche Da fuoco Cioè è bellissimo Veramente Ah qua ci sono anche Moreno e Stecca No Moreno e Ale Vabbè le ho dette tutte Sono Stecca Povero Ale È più di là Che di qua Dai Ale che ce la puoi fare È tutto in salita No Eh mi sa che non sarà questo il giro Dove Sto lassù Povero Ale Si è bloccato a quel punto Cavolo Mamma mia Stecca comunque Fa Dei voli incredibili È tipo Aerodinamico Cioè non lo so Ecco Certo che porto Sfiga Che è qualcosa Di incredibile Comunque Vai Moreno No 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 Ma fattenzione Cavoli Eh quel punto è antipatico Perché ti devi mettere Un punto alto E poi saltare Poi leggiamo Qua sarà bloccato Per fortuna comunque Sbatti contro la roccia Non dovresti Volare sotto In teoria In pratica poi Sapete come funziona In pratica e teoria Sono due cose differenti Se c'era Nico Se c'era Nico Le toccava mettere Tipo non lo so Non sono stati utilizzati I calendari Per la realizzazione Di questo video Che Nico E Parkour Non vanno molto D'accordo Praticamente Per fortuna C'era comunque Questa zona Che non spawn Anodino Quindi comunque Ci puoi lasciare Le strutture Tranquillamento Che comunque Queste qui Si spaccano Praticamente Con qualsiasi cosa Anche con gli insettini Purtroppo Tra l'altro Ora Vede così Nel frattempo Che loro Stavano a fare Il parkour Mi è venuta l'idea Di fare Praticamente Qualcosina Simile A un colosseo Su Aberration Che praticamente Il wipe Del server Lo andremo a fare Ovviamente Appena uscirà Aberration Sostanzialmente Lo vorrei strutturare Tipo così Praticamente Fa proprio Una struttura Per quello E sostanzialmente Fa anche Una leaderboard Su discord In cui praticamente Si può entrare Soltanto Con l'armatura La spada E lo scudo E poi Si sceglie Che livello Deve essere Una creatura De preciso E praticamente Una volta Killata Poi Non lo so Faccio l'esempio Alex Ha killato Il gigantopiteco Di livello 15 Ed esce Per esempio Primo Perché ha killato Di livello 15 Il secondo Livello 10 Eccetera Secondo me Vi è una cosa Abbastanza carina Anche perché Potrebbe durare Tutta la season E vede anche Magari col passato Delle settimane Fino a che Il livello Magari qualcuno Riesce a killare Anche un gigantopiteco Di livello 3000 Non lo so Mi sembra Abbastanza Infattibile Però Anche perché Così Diciamo Se riesce a trovare Dei drop Buoni Riesce a mettere Un'armatura Buona Eccetera Eccetera Potrebbe essere Veramente interessante Vedere fino alla fine Della season Per che livello Quella determinata Creatura Può essere Insomma Sconfitta a piedi Con spada e scudo A parte questo Per il momento Resta soltanto Giammo Là sopra Guardate Lui Tutto trionfante Con la sua Aquila Sfiammeggiante Che in realtà Ci faccio anche A copertina Grazie mille Giammo Visto che è Veramente bella Perché sia Olografica Siede fuoco Quindi Veramente tanta roba Ma sa che Steak È volato da sotto No ok Steak C'è quasi Se vede Il pezzo Da strada A sinistra C'è Restano Praticamente Gli ultimi 4 minuti Allo scadete 30 minuti Comunque C'è da dire Che gliel'ho fatta Abbastanza Complicato Secondo me Cioè Alla fine Soltanto Giammo È riuscito Ad arrivare Qua sopra Le cassette Maiale No Non gli ha preso Il salto Però per assurdo Va bene anche così Cioè si riesce Ad arrivare qua davanti Ok Non so come ha fatto Ragazzi Ha saltato Mezzo Parkour Però c'è arrivato Qua sotto Incredibile Dai 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 Ok No È scivolato Povero E c'è Ale Mamma mia Sta Fatti Devo No Mamma mia Per quanto Sta volato Sotto Comunque Il pezzo De rocce In mezzo Agli alberi Raga È veramente Qualquosa Di invisibile C'è Veramente Perché uno Pensa Vabbè Il parkour No Cavolo È volato Addio Poverale Si è bloccato A sto punto E Moreno Me lo so perso Uno pensa Magari Semplicemente Sto a fare Il parkour Ma C'era Il pezzo De roccia Praticamente Qua dietro Ecco Magari Se potrebbe Anche Rifà Però Invece Che mette Il finale Lì Mette Diciamo La fine Un po' Più sopra Allungandolo Ovviamente Mettendo Qualcosa In più Come Ricompense Aspettiamo Un attimino Se More Sticca Finiamo Vediamo Un attimo Se ci riesce Ad arrivare Vai Sticca Non volate Sotto Grande Dai 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 D'altro Raga Lasciatemi I commenti Magari Se vi piace Insomma Vede Video Così De parkour No Che magari Ve li ripropongo Un pochettino Più spesso Ecco Peccato Era praticamente Arrivato E niente Raga Spero che Comunque Questo video Vi sia piaciuto Se è così Mi raccomando Iscrivetevi Lasciate un commento Mi piace E ci vediamo Nel prossimo episodio Ciao 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 Ciao